Con la proclamazione a Palazzo Cisterna si sono concluse le operazioni di voto per rinnovare il consiglio della città metropolitana di Torino presieduto dalla sindaca del capoluogo Chiara Appendino. La partecipazione al voto dei sindaci e dei consiglieri di Torino e dei 315 comuni del territorio è stata del 64,25% degli aventi diritto. La lista di centrosinistra città di città ha eletto otto consiglieri metropolitani. Alberto Avetta il più votato in assoluto sindaco di Cossano Canavese, Vincenzo Barrea consigliere comunale di Borgaro, i consiglieri comunali di Torino Monica Canalis, Maria Grazia Grippo, Silvio Magliano, Roberto Montà sindaco di Grugliasco, Mauro Carena sindaco di Villardora e Maurizio Piazza sindaco di Beinasco. Al Movimento 5 Stelle sono andati sette seggi. Sono stati eletti Dimitri De Vita, il più votato della lista, consigliere comunale a Rosta, Marco Marocco, consigliere comunale a Chivasso, Barbara Azzarà consigliera a Torino, Carlotta Trevisan consigliera a Rivoli, Elisa Pirro consigliera a Dorbassano, Anna Merlin consigliera a Cumiana e Antonio Iaria consigliere a Torino. Alla lista di centrodestra civica per il territorio sono andati tre seggi. Sono stati eletti Paolo Ruzzola sindaco di Buttigliera Alta, Antonio Catello sindaco di Pianezza, Mauro Fava consigliere comunale a Curnier.